Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video Vediamo oggi la mia top 11 per la giornata numero 30 al fantacalcio Non si può più sbagliare, quindi cerchiamo di dare consigli migliori possibili Come sempre ricordo che all'interno della mia top 11 non troverai i top di reparte I nomi scontati come un Lautaro Martinez nella mia top 11 non lo troverai mai e poi mai E tutti i nomi che andrò a fare saranno ben motivati Ti invito come prima cosa a lasciare un bel like Ricordo che il like è un portafortuna, quindi su con i like lasciamone tantissimi Se non sei iscritto al canale iscriviti che è gratis Serve a te per non perderti i prossimi contenuti a tema fantacalcio che potrai trovare sul canale Serve a me per far piacere questo canale Quindi uno scambio reciproco che ci può stare assolutamente tutto Ci vuole un secondo ragazzi per lasciare l'iscrizione In descrizione trovi link per supportare questo canale come link per abbonarti Si parte da 1,99€ ci sono tanti vantaggi Ma anche link di Fantalab, tool per l'assa perfetta che ti consiglio Se vuoi fare un giorno l'abbonamento a Fantalab Ricorda di utilizzare il codice SCONTO FANTAVIRUS Oppure registrati dal mio link e avrai lo sconto in automatico Detto questo ragazzi partiamo con la nostra top 11 Entriamo con la grafica, andiamo subito con la porta perché partiamo con ordine E vi dico il portiere è delicatissimo Perché un portiere che non metto praticamente mai esordio in top 11 di quest'anno Un portiere che ha avuto un'affidabilità bassissima quest'anno Ci ho messo Andrea Consili, totalmente una follia questa Ma è un nome che potete trovare praticamente solo in questo canale come consigliato per questa giornata Ma affronta l'Udinese che non è il top attacco del nostro campionato Ma soprattutto il Sassuolo deve fare dei punti importanti per la lotta per non retrocedere O li fa ora contro l'Udinese o non li fa più Deve fare assolutamente dei punti e lo step numero 1 è sistemarsi dietro Ballardini questa cosa l'ha capita, l'abbiamo visto Il rendimento difensivo del Sassuolo comunque è migliorato nelle ultime giornate Ma questa giornata può spingere contro l'Udinese Per questo da scommessa se non si hanno alternative, se non si hanno nomi Un consiglio esotico ci può stare tutto Andiamo adesso sulla linea dei difensori Come primo difensore parliamo di Olm Un Olm che sapremo innanzitutto se gioca Perché ci sarà la formazione ufficiale della partita di Napoli contro Atalanta E quindi questa già ci do una mano per capire se non gioca Dovrebbe giocare per quelle che sono attualmente le probabili formazioni E' un giocatore comunque interessante Che si è preso o sembra essersi preso comunque il posto da titolare per il momento Nell'Atalanta che tira abbastanza, tira sicuramente più di Zappacosta Fa un tiro in media partita di cui 0,35 in porta Quindi sa rendersi pericoloso Il Napoli è una bella squadra, è un bel avversario Però questo non vuol dire che Olm non possa essere una valida scommessa per questa giornata Come secondo difensore andiamo su una certezza da modificatore che è Buongiorno Che affronta il Monza e il Monza contro il Torino non vince dal 1990 Quindi si prospetta per il Toro una gara dove la può vincere O almeno portare a casa un punto di conseguenza Buon rendimento per la difesa Da Buongiorno ci aspettiamo Il solito voto da modificatore di difesa Come ultimo difensore Andiamo su Dossena Altro profilo che può portarci Un buon voto da modificatore Quindi possibile nome da modificatore Dossena che affronta il Verona nel match salvezza per il Cagliari Si gioca in casa propria Quindi a casa del Cagliari Alla Sardegna Arena Il Cagliari può far punti preziosi per la salvezza O comunque provare a farli Non vedo una gara comunque ricchissima di gol Di conseguenza Dossena può uscire con un buon voto dal campo Andiamo adesso sulla linea dei centrocampisti Il primo nome che andiamo a fare è quello di Daniel Maldini Che sta vivendo un Magic Moment Tre gol nelle ultime quattro partite Va sfruttato questo Magic Moment Li diamo fiducia perché i giocatori che stanno bene Vanno lasciati in campo E attenzione perché può giocare anche titolare Chissà che non possa provare ad accendere la luce Nel match contro il Torino Come secondo centrocampista andiamo a fare il nome di El Sharawi Giocatore della Roma Che può far bene contro il Lecce Tra l'altro andrò allo stadio E storicamente quando vado allo stadio E guardare una partita di Serie A Stefano e Sharawi segna Quindi si intreccia un po' anche la mia storia personale Con questo giocatore Ma attenzione se segna sicuramente non ci sarà un assist di Pellegrini Perché vi ricordo che Pellegrini è squalificato Terzo centrocampista vado su Torsvet Un giocatore che si è incostante Per assegnata all'ultima Potrebbe entrare in un periodo positivo Poi come abbiamo detto già per consigli Questo è il momento in cui il Sassuolo deve provare a fare un qualcosina Ce la può fare contro l'Udinese Quindi fiducia anche a Torsvet Come ultimo centrocampista ci metto Luiz Alberto Attenzione a questo nome Non sottovalutiamolo Perché comunque l'abbiamo pagato da top di reparto Non ha avuto un rendimento da top e va bene Affronta la Juventus Ma non mi faccio intimorire assolutamente Anzi Vi dico Attenzione Perché potenzialmente può fare il trequartista Nel nuovo modulo Di Igor Tudor Quindi attenzione All'Upo Alberto Andiamo ragazzi adesso all'attacco Il primo nome è Odgaard Che sarà titolare nel Bologna al posto di Zirkzee Ha dimostrato di essere un giocatore interessante Che può dir la sua in questo campionato Quindi attenzione Se la vede diamogli una chance Perché è un bel nome per questa giornata Contro una salernitana Che dietro è veramente disastrosa Come secondo nome Andiamo su Lukman Un nome che sì Ha una partita tostissima Gioca contro il Napoli Però è un giocatore estremamente affidabile Un giocatore che nel 47% delle partite Riesce a portarci a casa un bel bonus Con un Napoli che dietro è imperfetto Può portare un bonus anche a Napoli Contro il Napoli Come ultimo nome Andiamo su Olivier Giroud Anche lui una percentuale di partita bonus Impressionante Il 57% delle partite In cui ha giocato quest'anno È andato a bonus E attenzione Perché la viola Spesso dietro è distratta Aggiungiamoci anche in questo caso Su Giroud Che viene da 4 partiti di campionato Senza il gol Questo È per ora il digiuno più lungo In Serie A Gli è successo anche la scorsa stagione Per ben due volte Di non segnare per 4 gare consecutive Non ha mai segnato per oltre 5 gare consecutive Quindi Qualora non segni Sarebbe un qualcosa di negativo Per lui un record piccolo In negativo Però la statistica Ci dice che non è mai andato Oltre queste 4 Non ha mai fatto la quinta gara consecutiva Senza bonus In Serie A Quindi attenzione A un possibile ritorno Al gol Da parte di Olivier Giroud Detto questo ragazzi Per oggi è tutto Vi saluto Se non l'avete fatto Mi raccomando Un like Per supportare questo contenuto Se non siete iscritti Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti E noi ci vediamo E noi ci vediamo